A quasi un mese dalla Slavina che ha travolto l'hotel Rigopiano di Farindola, causando la morte di 29 persone rimaste al suo interno, Farindola è un comune che prosegue la conta dei danni sul territorio, ma soprattutto che guarda il danno causato alle attività produttive come gli allevamenti e il turismo, l'importante volano del territorio e così nella giornata di ieri il primo cittadino, Ilario Lacchetta, ha incontrato i lavoratori della società che gestiva il resort. Cuochi, camerieri, addetti di vario genere stagionali hanno perso tutto, chi i propri cari, chi i amici e anche il proprio posto di lavoro. E così il sindaco ha fatto un appello rivolto agli imprenditori locali perché possano contribuire, come possono, al loro reintegro in altre attività. Intanto Lacchetta ha annunciato un consiglio straordinario in programma per la prossima settimana, nel quale saranno invitati anche i parlamentari abruzzesi, al fine di ottenere un aiuto per il comune di Farindola per ottenere il riconoscimento dei danni causati dal maltempo. Una situazione che ha messo il comune in grave difficoltà e dalla quale sarà difficile uscire, ha spiegato il sindaco, senza l'aiuto esterno. Proprio ieri è stato reso noto il dossier estilato dalla Protezione Civile e inviato a Bruxelles con la stima effettiva dei danni riportati dal centro Italia dopo le 53.000 scosse di terremoto registrate dal 24 agosto fino al 18 gennaio. È di 23,5 miliardi l'ammontare dei danni, l'1,4% del PIL del Paese. 3,2 miliardi invece i costi sostenuti dall'Italia per far fronte all'emergenza. 500 milioni sono i danni apportati alle attività produttive e all'agricoltura.